Ora c'è un animale che ti faranno gelare il sangue. Che schifo! C'è un animale che praticamente si legge tutto dentro con le sue larve dentro. C'è il YouTube della PS. Io penso che è un rupto. C'è un rupto che è un rupto C'è un cartone che ti fa? Dai a chi è? C'è un rupto che si LCF? Perché è un rupto, è un rupto. Si. E adesso rimanda a me pibe! Guam, iscri! C'è un rupto che mi puoi oltre la conoscenza di una canzone! Sì Perché qua non mi apre YouTube? Cioè ci sta mettendo 30 anni ad aprire YouTube Qua 30 anni l'iPad A partire la live Ma YouTube no Ma dai Non ci credo Ho provato ad uscire Per vedere Qua 30 anni l'iPad Forse Cioè me lo prendo dallo shop Allora facciamo una cosa Mi risparmi un po' di bauli Appena esce Apro dei bauli Se non la trovo me la compro Come Ecco che hai No hai detto te mi vedi Dopo mi arrivano le notifiche Tipo mi arrivano le notifiche Ti fa Deci Play o un console Si vede Proviamo un po' rosa Intanto che te la provi La provo pure io Tipo mi arrivano le notifiche ah dimmelo no allora comunque rosa cioè non è male per me è un buon blur ah adesso li vedo i commenti va bene ciao allora funziona vedi dalla live che si vedono i commenti sotto a sopravvivenza si vede sopra sopra alla testa di Frank si vede il nome di eh cosa football facciamo grazie si allora uno di voi potrebbe usare tipo Frank per me è molto forte però io ho Mortis allora uso Mortis per andare più veloce verso la palla ok 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 basta che mettete pronte e partiamo cosa ha fatto tagga ma dai eh ma lo so ma ma perché è la live che pesa tanto oh madonna no ma dai no 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 Bebua эта è stata così. Guest placi! Supporti. P ongoing. Vai! Vai! Vai man a meoka! C'è una che cerca di impegnarsi ma non capisce niente C'è una che fa altro ruolo, va bene Non ti credo Niente Tira a caso, vediamo che succede Qualcosa Porco cane Porco cane Cane, prima quello Madonna, quello genio Quello genio è un genio Che cavolo è successo? C'è un'altra cosa Mi va a strassare Nors gatti Non cosa? Maga tantissimo C'è Laura C'è una cosa C'è una cosa C'è un'altra cosa C'è una cosa C'è un'altra cosa C'è un'altra cosa Io metto pronto però mi lagherà tantissimo Madonna Oh mi sta laggando di meno Perché parlo? Perché parlo? Appena ho detto mi sta laggando di meno Ha cominciato a laggare Madonna Non mi lagherà più Ti faccio vedere che sono tanto forte Soprattutto a football Madonna non capisco niente Non sto capendo una cippa Ma cosa sta passando a me? Ihhh Scappa Madonna mia Fran Leo 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 Io Aspettano a me Sveglie ci sono le miei, è un giudice. Il ha fatto il giudice, sono l'aggile di giudice. E' una storia che è strada. Segu? Lei è un giudice. E' un giudice. Ma vivence di Guest, un giudice. E' un giudice. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!